È stata una bella puntata, ragazzi che all'inizio erano abbastanza freddini, anzi un po' resistenti, però poi ho visto che piano piano hanno accettato il confronto e alla fine mi hanno chiesto come si faceva a visitare Montecitorio, quindi penso che tutto sommato qualcosa gli sia rimasto e a me farà molto piacere incontrarli, fargli visitare la Camera dei Deputati e spiegargli quanto sia importante il cuore della democrazia, perché se noi non avessimo avuto persone che si sono sacrificate, che hanno dato la vita, che hanno dato la loro giovinezza, il loro tempo migliore per questa democrazia, noi oggi non saremo in queste condizioni. Quindi far capire il valore della democrazia significa anche motivarli a essere parte attiva della politica, perché non basta andare a votare una volta ogni cinque anni, bisogna esercitarla la democrazia e anche la propria cittadinanza. Quindi mi farà piacere rincontrarli di nuovo e spero che usciranno da Montecitorio ancora meno freddi e ancora più motivati a fare la loro parte. Grazie.